Sempre più ingarbugliata la vicenda della Vitri Frigo Arena, già prenotata dalle 9.000 presenze della convention annuale di Tecnocasa, che, ironia della sorte, casca con la concomitanza degli insperati play-off della VL e con una gara 3 dei quarti di finale di Serie A calendarizzati a Pesaro per il 19 di maggio. Il sindaco Matteo Riccia ha le idee molto chiare, lo ha fatto presente ad Aspes che gestisce l'arena e a Tecnocasa. La partita si gioca a Pesaro, garantisce il sindaco che si è reso disponibile a studiare location alternativa alla convention, quale piazza del popolo o lo stadio Benelli. Una situazione pericolosa che espone a penali in caso di annullamento degli eventi o ad ammanchi importanti per l'economia cittadina, come spiega l'Associazione Pesarese degli Albergatori. L'evento di Tecnocasa è uno dei pochi eventi che ormai si porta nel tempo di Pesaro circa 10 anni e che tutti gli anni vengono svolti nella nostra città. È un settore, quello delle convention aziendali, che negli ultimi due anni di Covid è stato completamente marturiato per ovvie ragioni di presenze. E quindi oggi noi cerchiamo di ripartire, ma questo lo sta facendo un po' tutto il settore del turismo e soprattutto nel settore delle convention. È un momento di ripartezza ed è un momento molto delicato. Andare ad agire per poi magari eventualmente annullare o quant'altro, rimandare questa kermessa per noi è estremamente pericoloso perché oltre agli effetti economici diretti che si possono avere in questo caso, già circolati nei giornali, si avrà anche un importante effetto domino poi sui prossimi anni e di sicuro la città non ne uscirà ben vista da questo punto di vista. Quindi è vero, la priorità è il basket, nessuno si aspettava che la VL arrivasse a questi livelli, quindi siamo tutti felici e tutti tifiamo VL. Però dobbiamo essere consapevoli delle conseguenze che questo crea sull'indotto turistico e sull'indotto economico della nostra città. È per questo che siamo intervenuti e vogliamo partecipare al dibattito perché siamo i primi ad avere riflessi su queste decisioni. E quindi tutti gli albergatori sono concordi sull'evitare che questo accada.